Adesione del Comune di Arezzo al Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d'azzardo promosso dalla Scuola delle Buone Pratiche. Lo ha deliberato la Giunta Comunale per confermare la necessità di interventi sia sul piano normativo che su quello educativo o culturale di informazione e formazione. Con un fatturato vicino ai 100 miliardi quest'anno il gioco d'azzardo si configura come la terza industria italiana quasi del tutto defiscalizzata che incide per il 4% sul PIL nazionale. Per il gioco d'azzardo le famiglie italiane impiegano il 12% della spesa più di quanto spendono per il cibo. Una spesa tale che ha portato l'Istat a includere gratte vinci nel paniere dei consumi degli italiani. Per raggiungere questo volume d'affari le persone dedicano al gioco 7-8 ore al giorno sottraendole al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero con una sofferenza che è psicologica di relazione educativa materiale di aspettativa di futuro. Di fronte a questi dati il Comune di Arezzo vuol dare il suo forte e convinto sostegno prosegue l'assessore Barbara Bennati per salvaguardare la comunità, la socialità, la relazione, la stabilità delle famiglie e la sicurezza urbana perché intorno alle sale da gioco si creano reti di micro criminalità e criminalità organizzata che producono degrado e isolamento. Non a caso il CERT di Arezzo sta pensando di predisporre un programma di interventi di sensibilizzazione proprio per evitare che questi fenomeni possano proliferare.